sono io che registro lo vedi prima? si indietro ma non hai come scoglio la scolta gioco 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 ci sono dai 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 gioco 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 Sì Mi hai rottuto? bravo da 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 na da 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 Palla Palla Cazzo 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 Andiamo Cazzo Sto per a presare anche io Cazzo Cazzo Tante 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 appoggio Vittat Palla Io non accorsa mai la crede c'è Ops La 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 lai tua Bravo Esci Non resta fascia è un'esaltà Un'usula tua Ehi ehi Eh bello resta d'angelo Non andate tutte e due sulla stessa fascia, state andando tutte e due sulla stessa fascia. Incrozziamo ragazzi, incrozziamo, dai. Volevo mettere il radio sinistro. Così come non si fa il go, dai. Porco Dio. E lo tengo lì. Bravo, bravo. Anche indietro, bravo. Così. Dai, dai, dai. Wow! Oh! Bè, dai! Dai... Dai, dai!!! Quelle ore, porco Dio, tre volte... ma che era ci pio No, 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 no. nooo grazie lui va bene grazie va bene dai 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 si avu va va bene va bene va bene vadone oddio Vai vai vai, frutto frutto Peppe Vieni qua Ah da Oh Troppe volte succede che dici che l'hai messa e però il cross non parte Allora, o sbagli qualcosa Eh infatti è quello palesemente perché se non ti fidi mi dispiace No, no, è proprio perché mi fido ti dico O sbagli qualcosa O c'è qualcosa e non va Perché non è possibile Succede troppo spesso Hai fatto la prova del cross? Prova un attimo prima Prova ad anticiparlo il cross Appena vedi che c'è lo spazio Appena pensi che ci sia lo spazio Ma io penso di fare così Prova a mettere un attimo Forse carichi talmente tanto che non parte Può essere Beh siccome è quello torno qui Dai 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 Poi ragazzi stiamo vincendo Noi stanno Oh 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 mio dio Cazzo Come è? Ehm no Si muoci da solo Let's fucking get in Come ho detto Dai queste ci si mangiano se si giuano Ci si dai cazzo dai cazzo 1 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 15 Sì, c'è stato l'intervento. Bravo, Roma. Eh, si scelta. Beh, questo è l'intervento. Grazie. C'è quella madonna. Non c'è stato l'intervento. Non c'è stato l'intervento. No, non c'è stato l'intervento. C'è stato l'intervento. Cubito. Ah, bene, bene. Dai, dai, dai. Sì. Oh, che cazzo. Eh, allora? Da. Quel doggio è... è il mio osso. Buono. Tio, tio, tio. ... ... ... posto mano è grave dai 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 ammazzalo è passata la palla accanto al piede perchè cazzo non l'ha presa per un'attività cosi cosi il cuore di piazza dai cazzo stop forse un pochino no 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 scusa dai gliela subito lì occhio da un'altra parte dai 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 no d'abria 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 a bella 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 capresale ho fatto questa penda lì ripo man, prendi i garbanzi ripo man, ripo man, ripo di me lo teniamo, dai dai io è il suo specializzato quello guarda che disegno con la casa con questi tre punti all'ultimo minuto l'azione è stata bellissima perché è stata con un disimpegno fantastico ce la meritavamo noi eh dai ragazzi puntiamo a sta cazzo di terza divisione dai dai cazzo grazie 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 grazie